Non è un momento facile, acqua, mi ve lo dico già, se non vi è piova dovrò fare un'ordinanza. Bisogna che mi diate una mano, bisogna stracarne il meno possibile, perché veramente manca l'acqua. Cominciamo a avere problemi anche a rifornire le famiglie in alcune zone, i pozzi non pescano più, l'agricoltura senza acqua non vive e noi senza agricoltura non mangiamo, a meno che non vuole mangiare i cavalletti e che roba che adesso vuole. E vedo che qualcuno comincia a farsi i panini, mani e ti. Noi siamo ancora da che altra parte, ne ha rispetto le idee di tutti, ti sei anche a stemmio, allora ti sei ma, non mi hai cavalletti a stemmio. Scusa la battuta, ma vedo mica non ti sei a stemmio. Scusa. 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 Grazie.